E la droga scorre nel nostro paese oltre una tonnellata e mezzo il sequestro di sostanze stupefacenti. Un fiume di droga scorre in Italia. Solo nelle ultime ore sono tre le grandi operazioni nelle quali è stato sequestrato oltre una tonnellata e mezzo di sostanze stupefacenti, pronta per essere spacciata soprattutto sulle piazze di Milano, Roma, Tarranto, dietro allo spaccio imponenti organizzazioni criminali, come quella individuata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha emesso 38 ordinanze di custodia cautelari nei confronti di altrettante persone. Tra loro due fratelli capoclana di uno dei più potenti gruppi della Sacra Corona Unita, condannati per mafia quattro anni fa, erano stati sostituiti di fatto nella reggenza dalle mogli. Una delle maggiori attività criminali di questa organizzazione, peraltro caratterizzata da una posizione dominante di due soggetti di sesso femminile, sono due donne in ruolo apicale con compiti di capi di questa organizzazione. Una delle attività più delicate, più forti, più massive di questa organizzazione era appunto quella di sottoporre a estorsioni qualunque tipo di esercizio commerciale o di attività economica si trovasse nell'ambito territoriale di appartenenza dell'organizzazione stessa. Nelle stesse ore un blitz dei carabinieri di Monza e della Polizia Penitenziaria di Milano ha portato al sequestro di 800 kg di droghe all'arresto di 31 persone. L'organizzazione di spacciatori tutti stranieri era operativa nel nord Italia, nelle province di Roma e Forlicesena. In tutto però sono 81 gli indagati dalle varie procure coinvolte tra cittadini rumeni e nordafricani su cui pendono 186 diversi capi di imputazione. Altri 680 kg di cocaina sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma all'interno di un auto articolato che stava scaricando la merce in un magazzino di Monte Rotondo Scalo alle porte della capitale. Grazie. Grazie. Grazie.